Sono più di 100 i casi accertati di dengue che si registrano nella città di Fano. Al momento non si sono verificati i casi gravi e non ci sono decessi. Si rileva che il primo caso ha avuto l'inizio della sintomatologia il 15 agosto e l'ultimo il 25 settembre. La curva di incidenza che mostra l'andamento dei casi nel tempo evidenzia una tendenza in chiaro decremento con un picco dei casi rilevati tra il 14 e 17 settembre. Nel frattempo, a partire da oggi, mercoledì 2 ottobre, nelle farmacie comunali di Fano è in distribuzione il kit denominato kit anti-zanzara protezione dal contagio del dengue. I kit anti-zanzara sono disponibili presso tutte le quattro farmacie comunali gestite da Aset Spa che sono questa di Fano Center, quella di Sant'Orso, quella di Gimarra e quella della stazione. In tutte queste farmacie i cittadini possono trovare questo kit che è composto da pasticche larvicida, spray repellente e pennetta post-puntura che possono essere acquistati insieme a un prezzo calmerato di 15 euro anziché quasi 25 che sarebbe il prezzo di distino oppure anche sicuramente però ovviamente pagandole a prezzo pieno. Questo ovviamente è un'iniziativa che Aset mette in campo insieme al comune di Fano sotto la supervisione dell'AST, quindi dell'azienda sanitaria territoriale, per cercare di sensibilizzare i cittadini, ciascuno a fare la propria parte per combattere la diffusione della dengue e delle zanzare tigre, quindi dopo che le istituzioni hanno fatto la propria parte adesso i cittadini possono contribuire e collaborare per limitare la diffusione di questa malattia che sta mettendo in difficoltà la nostra città. Intanto continua la sorveglianza sanitaria e i momenti di confronto tra l'azienda sanitaria territoriale di Pesaro e Urbino e gli esponenti del Ministero della Sanità che hanno anche concordato le misure messe in campo per contrastare il focolaio. Diversi invece i kit già venduti tra le diverse domande da parte dei cittadini ai farmacisti sull'utilizzo dei dispositivi in vendita. Il kit si compone di tre prodotti, troverete le compresse larvicida da utilizzare esclusivamente per uso esterno quindi non da ingerire, da mettere nei tombini, nelle acque chiare e oscure, le diluizioni le troverete sia nella confezione ma saremo anche noi a darvi le indicazioni più corrette, uno spray preventivo repellente a scelta tra adulto e bambino e una penna dopo puntura al prezzo di 15 euro ma potete anche liberamente scegliere di acquistare singolarmente i vari prodotti. Al momento abbiamo diverse richieste, da parte dei cittadini c'è un buon interessamento, una buona partecipazione ci fanno domande su come utilizzare i prodotti quindi al momento l'iniziativa è piaciuta molto.